Che prendo? Che eroi terribili Veramente ingiocabili Prendo l'Nzoth così facciamo la build pesce senza pesce Insharaj Veramente Le stats dicono Insharaj Dai facciamolo a questo in Insharaj C'è l'achievement Tutti gli scarsissimi questi sono AFK A FK Triple turno a FK Alcuno di voi ce l'ha fatta fare questa Missione incredibile Allora vediamo come sto qua Issharaj C'è quando conviene fare l'HP Turno 3 sicuro Ma qua prendo lui Livello a turno 4 Se si parte di token Però non abbiamo il token noi Questo piccolo problema Patta Incredibile patta Merda ci sta il token qui Ha senso prendere lui? Vendere il token Fare hero power Tu non puoi livellare E prendere il gatto No scusa Ah si no Livellare Misaga non ha senso Misaga non ha senso Fare queste stratte Prendo questo Vendo l'1-1 HP Poi tier up HP Forse potevo frizzare Sto roba Prendere Murlock più HP Non era male Era gold È tornato però E qua c'è da pure una spawn Che frizzerai per dopo Forte No Perché tu non puoi livellare Ah Sto roba livelliamo noi Esatto Non ci serve la spawn Noi tu no Bazziamo tier up Vendiamo questo hero power Voi compriamo due pezzi Vendiamo lui di nuovo hero power Questo si fa Ciao Ricky Tutto bene Grazie Fa piacere Vediamo cosa esce Buono Mitchell Quindi poi vendiamo il Murlock Prendiamo due HP E poi tier up HP Come si giocava la vecchia Elise In pratica Però con pezzi casuali Ricordate quanto era forte La vecchia Elise Con la mappa Facceva la stessa identica cosa Però il pezzo Te lo andavi a scegliere Quindi nello scenario ottimo Più forte possibile Isharaj È circa come Elise Nello scenario pessimo Isharaj ti evoca le tazzine Bella sta 3-3 Inutile come poche Una necrolita Non so neanche cosa fa sta carta Però Ho 3-3 di stats per ora Allora vabbè Veniamo il Murlock Prendiamo 4-1 Prendiamo 1-4 Facciamo la hero power Direi E basta E tu non dopo Tira up hero power Quindi si cerchiamo Pezzi di stats Pezzi di stats Draghetto Draghetto ovviamente Il più forte Da qua lì Possiamo uscire a 3 Eh Rat Pack Vabbè Non è male Nice Gemmina presa Però abbiamo perso Comunque solo di un danno 4 danni Le sconfitte che non ti uccidono Ti rendono più forte C'era sto shop che è pieno di pezzi a 3 Però in realtà non è che ci potenziasse Chissà quanto Facciamo una cosa del genere direi Non so se voglio attaccare addirittura Con l'1-4 prima Per un miracolo Che magari lui abbia un pezzo Che non Che viene tradato dal cinghiale Magari E riesce a prendere tipo una gemma In qualche modo Struso Non lo so Forse è meglio terzo Magari ci sarà qualcosa Che spona Se viene killato Per impicciolire la cartella del bingo Puoi cliccare sul tasto rosso Like bingo E te la iconizza Oppure sulla lente Sulla lente col più Stiamo sotto ragazzi Anche adesso Executus Però è figo Un terzo di probabilità Che l'1-4 ci dia la gemma Mancato Però riusciamo a non perdere Addirittura a vincere Quindi dai va bene Cioè per Voglio sentire il vostro feedback Ragazzi Perché ognuno Ha la dimensione diversa Nel pc Chi sta da pc Questo Come vi Cioè secondo voi Le cartelle del bingo Sono troppo grandi O ci stanno Da pc Sì intendo Allora che si fa Si prende il 3-4 qui No Non si prende Si va al 5 Si va al 5 Vendo il 3-3 Si Vai Dai su Mi c'è il 5 Mi c'è il 5 Mi c'è il 5 Deve andare al 5 Sennò non trova niente Nel mio computer Si vede grande Però Gian è un computer Dove invece si vede bene Infatti io ho sempre detto Non è che sono troppo grandi Le cartelle No no Il tuo pc Che è così Perché io tengo sempre aperto Una parte di Di twitch Che probabilmente La maggior parte delle persone Non tiene aperta Ok qua è dai 6-11 danni Io ho seguito Ho seguito le stats Di Di Astoria Plague Che consigliavano di livellare Qua E quindi Ho livellato Ho dato un muro Zonde Che non è male Non è neanche forte Però poi dammi un altro E lo esecuto Non è né male Né forte Dai Però siamo al 5 C'è non trovare un brano E scombare Il pass dura Fino alla prossima espansione Quindi se lo vuoi comprare Adesso sei ampiamente in tempo Ci può prendere ora Siamo agli inizi Ci sta Fanghino Fanghino ci piace W34 Nah Non abbiamo generator Roll Jolly Ok Roll Brand Quindi Via lui Via 2-2 Bra C'era la tripa di 2-2 ragazzi Ma fa schifo Secondo me Quindi abbiamo 3-3 4 tribe adesso Posso vendere questi due pezzi Che ho appena generato Da Murozond No devo vendere Executus Executus 2-3 Gioco fango E faccio iro power Oppure non facciamo iro power Ci sta a fare iro power C'è anche Tavern Tempest Faccio super schifo Ma super super schifo Non devo morire qua Oh Oh Nooo Nooo Comunque 10 danni va bene Ho delle reclute fresche fresche per te No master no Roll Oh my god Ciarghino Coiler è più forte All'altocrina dorata di Coiler E fa tutto schifo La mucca però Oddio questo salta Questo salta Brans Questo ci sta con Ciarga Mi sa che cambio Sì si cambio strat Allora Medo Ragazzi sono lentissimo Siete su un suolo sacro Ah la gezzofra capì Merde ho dovuto farmi le robe Ok 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 Oddio Oh shit Allora ragazzi Io direi che Salta fango qua Salta savanna Salta savanna Murozone Murozone Può saltare Prendo un altro 4-8 Devo livellare al 6 qua Livello al 6 qua sta roba Devo fare un altro vero spino E cercare un'altra charga Allora Oh my gosh Va bene Per questo 1 va bene così 1 dopo triplo il cavaliere Poi vediamo cosa fare Non direi che non sei E' una zona piatta Però Minch ragazzi Non gioco a beast Da un po' Faccio ladder Questi tuni di banana e moso Non sono più mentalmente pronto A fare transazioni Sarga Non ci sta Lo gioco ma non ci sta Prendere altro Mucca ci sta di brutto 7 draghi Serve Argus Non è male Argus Direi che ci sta Lo faccio sul 15-12 E un charga Chiudo di mucca Quindi salta al 9-6 Dai Chiudo di mucca Sì quindi non serve altro Allora Eric leave Poi Roll Roll Basta così Basta così Vediamo un po' Dobbiamo triplare Sta roba qui E se la tripliamo E manca troviamo Una magadona Uso branne Ha un senso Almeno stabilito Speriamo di non morire Anche perché Scaliamo infinito Ok 97,4 E chi ci batte più E chi ci batte più Ragazzi Dovevano batterci prima Adesso non ci batte più Nessuno E più sei più sei Tutta la board Ogni turno Incredibile Posso swappare Posso dare 12-12 A lui Vendendo muro Zonde Però mi serve uno slot Ci può stare Comprarlo Per il futuro Aghem no Draghetto Non ci sta Non ho spazio Per fare swap Comprare Selfless Ha senso Invece Tanto cerco solo Mucca E c'ha Arga Adesso E Amalgadon In teoria Quindi Ho vinto contro Di Xirella Che non aveva niente di che Selfless Carina Ci sta a prenderla Forse La rollo qua Ok Ora la prendo Però Ora al cero AFK Comp Ok Di attaccare il 9-8 Ah no Non è uguale Muore così Dai Non sarà 0,2% No Non lo è Dio ragazzi Incredibile Con i Sharaj Eh che un Drago Vanilla Ma a 33 distanza Non tante Oh yes Oh yes Vediamo se riusciamo a triplare anche Charga No Maxna non serve Adesso Cioè il punto è che Scalo ancora Devo vendere Murozonde Fare Bran A Malgadone No E poi chiudo di Selfless Oppure piazza una Maxna Selfless è meglio di Maxna Forse Dipende quanto vogliamo ottenere ancora Charga Ti so che devo spostare Allora devo spostare le sue gemme qua Ecco cosa serviva il muro Thon No module Pazienza Onesto Meno onesto Però comunque sopravvive Perché è infinitamente sgravo Eh però la fame è tosta La fame è un tipo tosta Non è il più forte Ma combatterà con onore Non mi serve a niente Charga è già così A meno che non voglio fare una vedetta Eh Vogliamo vendere sto Charga Chiudere sui velini Che siamo contro le 5 Elemental Vendere questo per un'altra Maxna Quindi faccio due roll Vedo se riesco a triplarlo E Poi facciamo saltare un Charga E 5 Elemental sono tanti ragazzi Però ammetto che Mi dà un po' fastidio vendere Charga Però forse è arrivato il momento Di farlo Contro uno che sta con 5 Elemental Le Maxna sono forti Hai due roll Magari triplo anche selfless No Non triplo un bel niente E zap Con qualcun altro No Roll E Roll Roll Allora Charga E un Più 12 Più 12 Tutta la comp Teniamo Mettiamo un altro veleno Teniamo dai Gridi ragazzi Non ce la faccio a venderla Non ce la faccio a venderla Troppo fighi Ok Ok Non attaccare A magadona I voli Vilenoso Bravo Adesso attaccalo Va bene così Va bene così Va benissimo Va benissimo Non è Non è l'11% Questo Non è neanche lo scenario Dove lo killiamo però Quindi non è neanche È Si è asculato in realtà Oppo È a scaling Quindi è pericoloso Però abbiamo La possibilità di batterlo Non becco il morto Male Sono sempre qui a soffrire Con uno di vita Niente Niente Gemme da spostare Queste ne hanno Questa è una 14 Se vogliamo spostare qua La mucca ne ha 42 Ma Penso Vogliamo spostare Devo vendere troppa roba Per spostare gemme ora Devo antipare Charga So che è difficile Selfless anche Niente Il nulla Meno 10 Però contro di questo qui Non è forte Max Quindi stiamo buoni Di sicuro Un altro turno Magari attacco prima Col 71-79 Contro di questo E stiamo E holdiamo Un altro turno Dobbiamo antipare Selfless E poi giocare Max Da qua Quindi chiudiamo con Max Nella selfless dorata Ed è una figata 100-100 Alla grande Mamma mia Quanto è forte 77-3 Cioè Value 3 Da tutto Quel vero spino Oddio Dai che forse faccio l'achievement Che mi sa che non ho mai vinto Con i Charal Con le mucche dorate Che delirio Dai come on Uno di vita Contro uno di vita Questo era quello qui Elemental Dobbiamo antipare Selfless ragazzi Dai come on Selfless Murozone Ma poi aveva una selfless Tanto Sarga salta Adesso È ora di farla saltare Quindi Ho una selfless Magari ci riesco A triplarla No Come on please Proviamo un'altra volta Yes 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 La max non serve a niente Nadina Vabbè è tutto inutile Questo Più 6 Più 6 Dai stats 2 Charal Sono uscite Incredibile Tutto il tempo che abbiamo speso A cercarle Siamo avanti Dai Oddio Non mi schiamare Nice Bel colpi Bellissimi colpi Assolutamente Colpi spettacolari No No Ok no Dovrebbe bastare lo stesso Sì basta lo stesso Anche con gli scrivi di vigne Entrambe le piantine Monca dorata Vince la partita Vittora con i Sharaj Incredibile Abbiamo ottenuto sogni di rabbia L'achievement Oh yes Oh yes Spettacolo Spettacolo Uh